Però valla in Monza, Emma Villa, Sobey, Siena, è l'undicesima, è ultima, giornata di ritorno, Superlega crede in banca. La flotta è ricevuta da Bonami, poi Petri, c'è altro muro, questa volta di Grozer, due muri consecutivi. 6 per Monza, va a forzare Mar, la ricezione, Zimmerman per Mar. Van Gardner è in difficoltà, Finoli va dall'olandese, altro murone di Galassi, 11 a 6. Taviskiba, questa volta sulla testa di Zimmerman, in pipe Mar, la difesa distinto di Ricci, Finoli dietro per Petri, c'è il muro di Beretta. Pereira in battuta, la ricezione di Mar, fuori ai tre metri Zimmerman, va il canadese sul profondo, la palla bacia la linea, finisce qua il primo set, 25-19, Monza. Galassi a forzare in battuta, tiene Raffaelli, ma deve correre Finoli, va da Van Gardner, sbaglia la palla, Mar la tiene viva in tuffo, poi da Viskiba la manda di là, in pallonetto, ancora Van Gardner, ancora una palla non proprio precisissima. Vincenzione di Raffaelli, Finoli dietro per Barth, ma da Viskiba! Problemi per Van Gardner, Ricci però risolve tutto. Federici a ricevere, Groser ad attaccare, il muro alla difesa di Ricci, in tuffo Finoli per Raffaelli, murato da Daviskiba. La ricezione, poi Zimmerman dietro per Groser. Il Groser dei tempi migliori, qui Zimmerman pulisce tutto a rete. Allora, ancora Groser, ancora con una slash, la ricezione che rimanda la palla al capo di Monza, Zimmerman a prepartita e si mette proprio. Bonami in difficoltà, ma questa volta si salva Siena, Bartman a tutto braccio, respinge il muro, può rigiocare però la squadra toscana, Van Gardner è ancora murato, Bonami infila la mano, le rumoreggia il pubblico e vuole la palla a terra, la difesa di Federici dopo il muro. Groser con la ricorsa tipica, difesa sulla diagonale da Petrici, ancora Van Gardner, il money out, la difesa di Petrici. Questa volta si può scegliere, allora Bartman deve andare però in pallonetto, Zimmerman accelera per Galasse. Zimmerman per Mar, Morato, la flipperata si salva però Monza, può rigiocare Siena e Ricci va a segno. Ricciazione di Mar, Zimmerman dietro per Davi Schiba, una pipe. Sulla finale finale, chi vince andrà in Challenge Cup, ma questo è un super ace. Scambio prolungato, Zimmerman dietro per Groser, diagonale stretta, palla dentro. Adesso tocca a Raffaelli, la ricezione di Mar, Zimmerman va dal canadese, che insacca dolcemente. 18-15. Ricezione di Petrici, poi Pereira, una palla frollata, prova a infilarla a mano Davi Schiba, non ci riesce. Infilare in questa partita, l'Eis del Conte Vlad. Raffaelli, ricezione di Mar, Zimmerman, Groser, murone di Ricci. La ricezione di Federici, sulla testa di Zimmerman, va Mahari, insacca, finisce qua. Monza vince, 3-0. Conquista tre punti, che le assicurano come minimo il settimo posto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.